Era un angelo perfetto, io, ma la terra mi ha reso imperfetto. Più difficile il secondo, c'è l'inviota su di noi, non si parte e ne si arriva, inchiodati siamo ormai, muti e vuote siamo in tanti, avvantuno pandemia, che c'è iscritti. Covid-19! Quadro, 50x70, ad olio, tecnica anche mista, l'angelo ferito, un angelo ferito dal Covid-19. Covid-19, virus, c'è ancora un mondo in cui credere, devo credere in un mondo nuovo. Quadro misto, subbuglio intestinale, 50x70 colori ad olio, è un subbuglio alla vita al giorno d'oggi, Aldo.